Lavoro in corso per un parco intraprendente. Titolo del confronto permanente avviato sabato attorno alla valorizzazione del parco San Bartolo. Un lavoro a più mani per un centinaio di soggetti coinvolti. Quelli che il presidente Silvano Leva ha riunito nell'auditorium di Santa Marina Alta per intavolare tutta una serie di azioni volte a valorizzare ulteriormente il parco. Dal turismo alla cultura, dall'ambiente all'agricoltura avviati una serie di tavoli di lavoro che coinvolgono amministratori, operatori economici, turistici, culturali e ambientalisti. Leva ha già avanzato varie ipotesi, da ripensare ai ruoli delle due sedi, quella di Fiorenzuola e quella precedente di Baia Flaminia, fino ad iniziativa pagamento. Noi chiaramente vogliamo investire, vogliamo fare dei progetti, dei programmi, quindi le guide, le guide stanno lavorando ma non c'è collegamento col parco, vogliamo coordinare, creare un po' di marginalità, aprire le vetrine, aumentare gli spazi della logistica perché il parco, come dicevo prima, parte da Pesero e arriva a Gabice, passando per Santa Marina, Colombarone, Castel di Mezzo. E quindi è chiaro che ogni borgo, ogni punto deve avere uno suo spazio perché anche con l'assunzione di nuove risorse abbiamo bisogno di una logistica più importante. Crediamo che Pesero debba essere un punto importante perché parte dalla città della cultura del 2024 che è un'opportunità, ma con tutto il turismo anche che c'è su Pesero che partono da Baia Flaminia e salgono, c'è la possibilità insomma di lavorare su questi quindi tutte quelle attività collaterali che danno visibilità e frequentazione al parco e che nello stesso tempo danno una monetizzazione non speculativa ma che serve per potenziare gli investimenti oltre a quelli della regione e dei comuni. Soggetti centrali del confronto, i tre comuni che hanno dato vita al brand Riviera del San Bartolo, da Daniele Vimini che ha messo il parco al centro dei ragionamenti della natura della cultura di Pesero 2024 e che assieme a Gabice Gradara sta potenziando le sinergie. Comune di Gabice Mare, di Pesero ma anche Gradara e Tavuglia che insieme cercheremo di sviluppare con nuovi progetti itinerari che possono da un lato valorizzare questa bellissima parte della regione Marche e dall'altro anche valorizzarla e riqualificare alcune aree per mantenerla anche in stato ottimale per un turista o per un cittadino che viene qua a fare trekking o anche solamente a passeggiare questi posti bellissimi. Quest'anno abbiamo sperimentato anche la navetta che è stato un mezzo di trasporto sostenibile che ha potuto portare tanta gente a scoprire il San Bartolo da Pesero a Gabice e con la trasversale dal parco verso Gradara e Tavuglia. Quindi allargare questo asse è fondamentale perché intanto aiuta in una politica di mobilità sostenibile a ridurre il traffico veicolare dei mezzi privati, dall'altra è chiaro che serve anche per valorizzare e far conoscere a chi sceglie le destinazioni turistiche di Gradara, di Gabice, di Pesero ma anche della vicina cattolica e quindi sconfiniamo nella Romagna di far conoscere il nostro parco con questo servizio gratuito. La proposta su cui adesso stiamo lavorando è di far consolidare questo servizio anche per il 2024, essendendone anche il periodo. L'idea è di partire da Pasqua per arrivare magari al Gran Premio di San Marino che coinvolge Tavuglia. L'assessore regionale Stefano Aguzzi attraverso la sua delega ai parchi ha fatto luce sui bandi a sostegno delle quattro realtà marchigiane. 800 mila euro che l'attuale amministrazione regionale Acquaroli e io come assessore regionale ai parchi ho introdotto annualmente e diamo a ogni parco una parte, quindi anche il San Bartolo, fruito di questo finanziamento per tutti i quattro anni dal 2020 ad oggi e spero e credo che le abbia utilizzate nel miglior modo possibile, perché non è che sta a me decidere come loro le debbano utilizzare. Quest'anno ho introdotto un'ottima novità, altri 200 mila euro che vanno per attività legate, possono essere alcune attività culturali, possono essere alcune attività legate al turismo, alla valorizzazione del territorio, che vanno al di là dell'ordinaria amministrazione. ho messo a bando 200 mila euro per intervento e fino a 50 mila euro per ogni tipo di intervento e questo bando se lo sono giudicati diversi parchi, quattro esattamente perché è 200 mila euro, quindi sono andati a Sassosimone e Simoncelli, sono andati al parco del Conero e sono andati anche al parco del San Bartolo.